Opportunità da non perdere per tanti ragazzi e ragazze in cerca di lavoro. Decathlon, il noto gruppo francese di negozi per chi ama lo sport, ha in programma in questo momento l'assunzione di circa 1320 persone in tutti i suoi 62 punti vendita nel nostro paese. Qual è il profilo ricercato? Gli annunci di lavoro sono rivolti a neonaureati e diplomati con un po' di esperienza, a seconda del ruolo, in ambito commerciale. Grande è la varietà di posizioni disponibili, dai responsabili di reparto a hostess e steward, per poi arrivare ai venditori e alle venditrici. Sono davvero interessanti e insolite le cifre delle assunzioni, ben 120 responsabili di reparto e 1200 venditori e venditrici. L'offerta è da prendere al volo perché l'inserimento in azienda partirà già alla fine del mese di ottobre 2010. Il candidato ideale per la posizione di capo reparto è un neonaureato in economia, legge, scienze motorie, anche collaure di altro tipo. Potete comunque fare domanda, con ovviamente una forte passione per lo sport. I diplomati si occuperanno invece della selezione e della formazione dei vari loro collaboratori di reparto, della gestione dello stock e dell'esposizione dei prodotti. Per visualizzare tutte le offerte di lavoro e inviare il proprio curriculum visitare il sito di Decathlon. Link utili 3.160 posti di lavoro nella GDO. Offerta per infermieri a Londra. Offerte di lavoro dalle agenzie interinali cerca lavoro, forum lavoro con corsi pubblici.